Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo di 10 incredibili accessori che vi serviranno per passare un'estate migliore, che non sono assolutamente accessori che abbiamo deciso di buttare all'interno del video perché riteniamo interessanti e che sono assolutamente essenziali, tendo a sottolinearlo. Vedremo un sacco di cose divertenti, sarà un video ovviamente un pochino più sciallo rispetto a quelli iper ultra complicati, ma sono sicuro che vi strapperà un sacco di risate oppure cringerete come poche cose al mondo. Ad ogni modo, sigla che poi partiamo. Non vi preoccupate, lo so già qual è la vostra preoccupazione, dove potrò andare ad acquistare questi incredibili prodotti che stai per farci vedere. Non vi preoccupate perché li trovate tutti quanti, linkati in descrizione e direttamente sul nostro online shop, M Tactical Shop. Siamo in sede fisica a Reggio Emilia e potete ovviamente trovarci un pochino ovunque, anche online, perché potete acquistare e spediamo in tutta Italia. Bando alle ciance e partiamo. È estate ragazzi, è estate, fa un caldo maiale, si suda terribilmente, ma un modo per non sudare sono queste incredibili magliette della Magpul. Questa in particolare con la donnina, l'avete vista indossata dal Buon War nel video precedente e personalmente, oltre al fatto che sono tutte in cotone, sono veramente molto fighe. E, cosa ancora più importante, leggere. Se vi siete stufati ad indossare delle magliette nere che vi fanno sudare come degli animali e volete qualcosa di più leggero, questo giocattolino fa al caso vostro. Secondo item è un copertone che sicuramente vi potrà venire comodo quando i vostri si fonderanno sull'asfalto. Dici che lo capiranno che non possono effettivamente acquistare il copertone? Un altro rimedio perfetto per le temperature calde e insostenibili sono le kefie. Lo so, lo so cosa state pensando. Ma Red, che senso ha mettermi una sciarpa pesante intorno alla testa? Ed è qui che vi sbagliate. La kefia serve anche per ripararsi dal sole. Immaginate, siete in spiaggia, ci sono 75 gradi all'ombra. Ma l'ombra non c'è. Ecco che viene in vostro soccorso questa incredibile kefia, perché i parei ovviamente sono per le signore, noi abbiamo le kefie che ci ripareranno dal sole e se siete albini come me magari evitate di prendere un'insolazione. Costano poco, sono utili e soprattutto poi le potete utilizzare anche di inverno perché fa sempre comodo ed è sempre alla moda. Ovviamente il modo migliore per coprirsi la cabeza dal sole è un bellissimo cappellino. Ecco che arriva il quarto elemento di questa top ten, ovvero un cappellino. Vi sconsiglio un modello nero come il mio perché diciamo che nero e sole a 40 gradi a raggio non è che vanno molto d'accordo. Questi per esempio della Clow Gear, se volete fare veramente i fighetti, in multicam vi permettono di mantenere la testa al fresco e soprattutto sono figli. Perché i flexfit penso sia uno dei modelli di cappellino dopo il baseball cap tradizionale come quello che ho in testa, migliori sul mercato. Nel caso non vogliate spendere un'ira di Dio o semplicemente vogliate andare su qualcosa di più economico, non preoccupatevi. Abbiamo dei modelli un pochino più economici, non per forza neri come questo, molto carini che vi eviteranno l'insolazione. Come se poi d'estate uno prendesse solo l'insolazione. La cintura. Ragazzi io non so come alcuni di voi possano andare in giro senza cintura. Io personalmente indosso una matpul in questo momento, non so se si vede, e non riesco ad andare in giro senza cintura. Uno perché è un elemento essenziale del mio DC, del mio Everyday Carry e soprattutto perché insomma se non hai la cintura dove vai? Cosa fai? Queste della Defcon 5 sono con lo strap e potete andarle a regolare come preferite in base alla vostra taglia. E vi tengono sui pantaloni e soprattutto le potete usare per 200 altre cose tra cui appendervici agli alberi o tenere insieme un gruppo di boe che vi serviranno per raggiungere l'isola del tesoro. Un paio di occhiali tra l'altro potrebbero risultare comodi uno perché questo tipo di luci che sto utilizzando mi accecherebbero due perché guardare diretto al sole insieme agli altri non è mai stato così divertente come con un occhiale Univet. Questi in particolare sono uno dei miei modelli preferiti trovate tutto il catalogo Univet linkato in descrizione sono occhiali perfetti sia per giocare a software che per essere molto fichi. Essere molto fichi? Come ogni anno non c'è bisogno che io vi ricordi che l'acqua è l'essenza della vita su questo pianeta. Ecco perché avere una borraccia che vi permetta di non morire di sete è un'ottima idea soprattutto se non volete morire a 21 anni perché bevete solamente gin tonic in spiaggia. Quindi il mio consiglio è idratatevi, idratatevi con una bellissima borraccia stile militare sono un sacco economiche, la potete prendere, evitate di prendere i wrap o quegli altri sistemi che tanto qui dopo li lasciate come me in uno scaffale non li utilizzate mai, queste sono leggere, comode da portare e soprattutto tengono un litro d'acqua. Allora il nord è da quella parte. Una bussola ragazzi, non so quanti di voi odiano il mare, io l'odio abbastanza infatti avere la possibilità di andare in montagna durante l'estate mi rende pienamente contento e sapete cos'è che si può fare in montagna di divertente? Andare a fare delle escursioni senza una bussola però vi assicuro che risulterebbe alquanto difficile. Fortunatamente ci siamo noi che vi offriamo queste bussole iper ultra economiche che sono essenziali sia per l'estate che in generale quando dovete fare delle PCR, PCS e qualunque altra cosa che preveda che dobbiate riuscire a orientarvi. Ah l'estate, il sole, la spiaggia e soprattutto i tormentoni estivi. Non mi sto riferendo a quelle canzoni terrificanti che vi si stampano nell'amigdala e che non escono mai più ma parlo delle possibili precipitazioni. Ecco che potrebbe venire comodo avere qualcosa di impermeabile che non solo protegga le vostre cose più care ma che vi assicuri anche di avere magari un telefono o i soldi asciutti quando dovrete pagarvi l'autobus per tornare a casa una volta che siete zuppi. Ecco che vengono in nostro aiuto questi incredibili box impermeabili sono delle scatoline che avrete visto sicuramente un pochino ovunque che vi permettono di tenere uno al sicuro dagli urti i vostri oggetti di valore due asciutti che non guasta mai. Quanto è bello essere dei tatti cool boy essere un po' tattici, avere un dress up code, determinati indumenti che fanno sì che la gente vi riconosca come dei soggetti tattifighi, terribile in italiano. Ecco perché con la nostra selezione di patch in questo caso messe in un formato a voi dimostrabile potete essere sicuri di andare a personalizzare al meglio il vostro stile. In questo caso ci sono quelle peggiori che abbiamo in negozio o peggiori ovviamente nel caso siate minorenni nel caso siate maggiorenni sono le migliori ho fatto in modo di mettercene un pochino. Vi consiglio di andare a darci un occhio è perché è una banana sì non che questa scherzi no no non andate via perché non finiscono qui le incredibili sorprese e gli incredibili prodotti di cui pensavate di non avere bisogno ma vi sbagliavate. Che cazzo c'è adesso? Ecco il gas estivo ragazzi non potete sparare col gas nero d'estate altrimenti la vostra pistola esplode e il carrello vi finisce esattamente in mezzo agli incisivi. Grazie al Nupro al Bianco siete sicuri che la vostra pistola non vada a sparare over joule in modo tale che rispettiate le norme italiane per il gioco tattico dell'airsoft e allo stesso tempo avrete anche un gas che protegge e rende sicuro l'utilizzo della vostra pistola evitandovi rotture di coglioni e anche dei componenti interni. Visto che non mi viene in mente niente per chiudere il video sto ovviamente scherzando fa tutto parte delle gag di questo incredibile e simpaticissimo video l'ultimo elemento che vi serve per quest'estate lo sappiamo tutti qual è ed è la nuova patch del negozio. Oh sì ragazzi guardate che bella bimba sono finalmente arrivate ce le avete chieste in 850 e noi ve le abbiamo portate fatta in pelle ricamata ovviamente a laser e ricamata a laser ci sta dai rende l'idea oltre ad essere incisa al laser ovviamente abbiamo anche una linea molto sottile onde evitare di andare in giro con quelle patch che sembrano delle tasche ve l'abbiamo detto anche nello scorso video questa è la prima gettata la prima ondata di patch ed è segnato qui in alto col numero 001 in futuro ne faremo delle altre però queste sono edizione ovviamente limitata se foste interessati a girare con la patch più figa del mondo sull'isola con più figa del mondo poi la penisola se proprio doveva fare avere senso ma vabbè e le trovate ovviamente linkate in descrizione ultimo punto non è tanto qualcosa che potete acquistare ma è un trucco per rimanere freschi tutta l'estate non patire questo terribile caldo c'è un profilo instagram che vi rinfrescherà le giornate soprattutto se ci andate una volta al giorno mettete like a una foto ed è ovviamente è un tactical shop e nel caso preferiate video preferite preferiate contenuti più veloci c'è anche il nostro tiktok e facebook tra l'altro così bam facebook è tornato guardare questi profili con cadenza abbastanza continua vi permetterà di rimanere freschi durante tutta l'estate perché siamo tactical questa era terribile quindi non vi resta altro che iscrivervi al canale mettere like e venirci a seguire su tutti gli altri profili onde evitare di rimanere fregati accaldati e con le palle sudate vi ricordo inoltre che tutto quello di cui ho parlato lo trovate linkato in descrizione e lo potete acquistare da mtactical shop c'è il link in descrizione nel caso abbia un altro nome non vi preoccupate perché stiamo facendo la transizione anche lì non disperatevi se avete dubbi, domande, perplessità potete scriverci potete scriverci anche il caldo mi impedisce di parlare potete ovviamente contattarci su tutti i nostri social vi consigliamo di utilizzare whatsapp se volete una risposta immediata o consigli specifici nel caso il fresco non vi basti vi ricordo che c'è anche un mio canale personale dove pubblico sempre contenuti tactical che è linkato in descrizione e ovviamente il mio instagram giusto perché così siete connessi a tutto l'ecosistema mtactical ed è importante spero che questo video scanzonato vi piaccia l'abbiamo fatto anche un po' per cambiare perché sempre le stesse cose annoiano e soprattutto perché c'è caldo ragazzi c'è un caldo terribile lo sappiamo e siamo qui con voi a condividere questo peso qui da Red è tutto io vi ringrazio di aver visto questo video vi ricordo di lasciare like un mi piace e soprattutto stay angry hai presente lo stato crepuscolare che cos'è? è quando tu hai fatto una cosa e nel momento in cui la termini non ti ricordi assolutamente nulla di quello che hai fatto con questo caldo io ce l'ho in questo momento io ce l'ho in questo momento